Ciao bambine, bentornate sul mio canale! Oggi vi ho portato un gioco veramente speciale! Guardate, vi ho portato le LOL Biggie Pets! Della giochi preziosi! E in più vi ho portato un amico con cui aprire tutti i giocattoli! Fatti vedere amico mio! Ciao bambine, io sono Giorgia e oggi aprirò le LOL Surprise con voi! Non vi da l'ora, non ho mai aperto una LOL Surprise! Voi ne avete mai aperta una? Questa è veramente speciale, fa parte della nuova collezione! Andiamola ad aprire bambini! Allora, 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 cominciamo da questa pallina che abbiamo tirato fuori da questa scatola! Guardate la scatola! C'è un buco, si vede la mia casetta! Guardate la scatola! Ha degli occhiali sopra con cui poter vedere dei codici speciali qui che sono tratteggiati con dei segni blu! Non so se li vedete, ok! Quelli li potete vedere da casa! Poi guardate, vi faccio vedere meglio! Qui abbiamo un animaletto, abbiamo altri codici segreti e abbiamo, abbiamo, guardate! In ogni scatola ci escono due o tre animaletti bambinetti, cuzzolini Poi ci escono degli occhiali con cui vedere i codici un collare, un osso e questo cos'è? Un altro collare? Però è il contrario! Boh, vediamo insieme! È un giochino! Io non vedo l'ora di aprirlo! Cominciamo ad aprirlo? In ogni scatola ci sono 15 giocattoli! Iniziamo! Dai, posso aprire io la pallina? Per piacere! Non ho mai aperto, non ho lo surprise! Ti prego, ti prego! E va bene! Ma solo perché sei uno dei miei più cari amici! Aprila tu! Che bello, grazie! Allora, bambini! Aiutatemi! Solleviamo, solleviamo! Oh, ecco qui! Guardate, bambini! Guardate cosa è uscito! Guardate! Abbiamo la nostra cucciolina e un sacco di sorpresi intorno! Vediamo! Io tirerei fuori prima la nostra cucciolina! Eccola qua! Vieni fuori! Ah! Abbiamo tirato fuori tutto! Guardate qua! Cos'è questo? È un codice segreto! Ma con cosa lo andiamo a vedere? Con gli occhiali dei codici segreti! Uh! Gli occhiali infrarossi! Penso! Oh! Sono teali rossi! Ah! Guardate! Vediamo tutto rosso! Vediamo se qua... Sì! C'è il codice! Aha! Vediamo! Tiviamo tutto fuori! Io ho una stupenda idea! Adesso guardo il codice sulla scatola, visto che prima non potevo! Mettete gli occhiali con me e guardiamo! Ah! Guardate quanti animali dolci e carini! Ah! Perché noi abbiamo questo qua! Però potevamo prendere un altro animaletto! Wow! Avete visto, bambini? Ma le sorprese non finiscono qua! Dentro la sua pancia due animaletti e una sorpresa speciale! Vediamo subito se hai ragione! Ma aspetta! Tu sei troppo avanti! Io sto ancora prendendo tutti i regali qua! Guardate! Abbiamo trovato una collanina, un collarino, un fucsia, che hai le vite già visti e abbiamo trovato questo! Guardate! Questo qui! Che è un collare che possiamo metterci anche noi! E ora andiamo ad aprire la nostra LOL pad! Guardate! Abbiamo detto che la sorpresa è dentro il suo pancino, giusto? Questa è la nostra LOL! Le sue scarpette e... No! Ma guardate! Ha un'apertura qua, ma diventa anche un comodo salvadanaio! E qua la possiamo legare per portarcela dietro! Con questo qua! Ora andiamo ad aprire... Oh! Guarda quanti coricini poi! Ma quante sorprese! Guardate! Ah! Quante sorprese ci sono! Guardate! Pieno qui! Altro che 15! Ce ne saranno 3000! Wow! Andiamo ad aprirvi tutte, 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 tutte! Andiamo, andiamo, andiamo! Ecco qua, bambini! Questo... Ah! Non ci serve! Guardate quante sorprese! Wow! Sono tantissime bustine! Wow! Io voglio aprire prima le casse e poi vedere gli oggetti nascosti! Dai! Per piacere! Per piacere! Va bene! Tu mi hai fatto aprire la palla della LOL e io ti faccio aprire quello che vuoi! Dai! Scegli tu! Comincia! Che bello! Allora, iniziamo ad aprire le casse e io voglio aprire prima quella rosa! Guardate che carino! Guardate i disegni! Li vedete? Guardate! Fragile! Ah! Gattini e animaletti gratis! Vediamo cosa ci sarà qua dentro! È tipo un pacco delle spedizioni! Mmm! Ne hanno mandato un pacco! Apriamolo! Ma cosa c'è? C'è una gattina! Ah! Guardate la gattina! Quanto è dolce! Guardatela! È dolcissima! Ed è multicolor! Guardate quanti colori! Veramente adorabile! Veramente adorabile! Sono le altre casse! Andiamo a vedere! Ora andiamo ad aprire questa cassa qui in celofanata! Ah! Guardate! Sono ricamati! Due occhietti il nasino! È una cesta! Uh! Che bellina! La cesta è veramente carina! Andiamo ad aprirla! Ma qui c'è un cuscinetto! No! E qui dentro cosa ci sarà? Che bella! Avete visto? C'è anche la sabbia! La sabbia? La sabbia cinetica per giocare! Poi ci giocano i gattini nella sabbia! Vediamo cosa abbiamo! Ci possiamo giocare anche noi eh! Guardate! Abbiamo un altro animaletto! Vieni fuori! Vieni a giocare con noi! Dai! Oh! Eccola qua! Guardate! Cos'è un'altra gattina! A me sembra un'altra gattina! Guardate che carina! È un altro dalmata con altri cuoricini! Veramente adorabile! Andiamo a tirare fuori tutta la sabbia! Vediamo se c'è un'altra sorpresa! Oh no! Non ho ragione! Andiamo a tirare fuori tutto qua! Ok! Così ci siamo quasi! Ok! Guardate che bella! Che con questa si può giocare! Morbidissima! E qua? No! C'è la cutta del nostro gattino! Guardate! Oh! È davvero contenta adesso! Infine ci resta l'ultima scatolina! Andiamo a vedere cosa c'è! Questa la spacchettiamo! Ah! Spacchettiamola tutta! Così! 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 Ok! La apriamo! Bellina! Scaviamo! Vediamo che animaletto troveremo qua dentro! Vediamo! 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 C'è un altro cuscinetto! Andiamo a riporre la sabbia! E... Ah! È uscita subito! Avete visto? Che animale è? Andiamo a vedere! Ma questo è un cagnolino! Anzi! Una cagnolina! Guardate che carina che è! È davvero dolcissima! Ora andiamo a vedere tutti i nomi! Lei è la nostra dalmata! Lei è Dolkytan! Poi abbiamo questi! Non li abbiamo! Ah! Guardate! Abbiamo Bom Bom Meow! Poi abbiamo... Usiamo gli occhiali per vedere l'altro nostro personaggio! Abbiamo un cagnolino! Quale abbiamo di cagnolino? Ah! Ecco! Ma anche il suo fiacchettino! E... Bam Bam! Benissimo! Ora potremmo andare ad aprire tutte le sorprese! Io inizio con la prima sorpresa! Via! Vediamo! 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 Wow! Abbiamo questo gioco carinissimo! Tocca a te amica mia! Vediamo io cosa troverò! Cosa troverò? Ah! Ce l'ha fatto! Ce l'ha fatto! Ce l'ha fatto! Ce l'ha fatto! Sei incastrato! Sei incastrato! Ah! Eccolo! Wow! No! L'ho rotto! Oh no! L'ho distrutto! Ah! Ma invece no! Si monta bambini! Che paura! Pensavo di averlo rotto! Quindi non lo possiamo smontare e rimontare! Così! Opla! Avete visto? Che paura! Abbiamo altre bustine! Vediamo! Cosa abbiamo qui? Abbiamo... No! Guardate! Abbiamo una targhettina! Gli animali! Dei BB pack! Vedete? Ah! Qua è per comprare online! Vedete? E possiamo comprare un sacco di scarpine! Qui abbiamo... Oh! Il fular della nostra cagnolina! Quella che abbiamo visto prima! E un portachiavi! Mettiamole subito il fular! Facciamo già la pallonina! Io la leviamo! E ne mettiamo il fular! Così! È veramente carinissima! Io allora prendo le altre sorprese! Così le guardiamo tutte insieme! Guardate qui! Che bello! Un osso! Oh oh! Un messaggio segreto! Ah no bambini! Quindi ve lo faccio vedere noi! Abbiamo... Ah! Questa l'ha aperta! L'ha aperta! Questa non l'ha aperta! Ah! Un altro fiocco! Un fiocco in portachiavi! Vediamo! Uh! Ci resta l'ultima! Abbiamo trovato... Una pallettina rosa! Abbiamo trovato un sacco di belle cose! Quindi bambini se il video vi è piaciuto mettete mi piace! Vi aspettiamo al prossimo video! Ciao ciao!